Cioè tutte, poi in mezzo devo fare delle altre tappe, però la cosa è lunga. Io cammino le 20 regioni tutte. Perché ho spondenti? Così perché lascio, mica perché non è che sono gay. Ogni tappa, quanto chilometri? Allora, tappa media sono 32, però la tappa più lunga è stata Pisa-Luca di 48, chilometri e la tappa più breve in Milano-Montia di 14,5. Però, cioè, poi metti a sommi tutte e sono 32. La media è quella. Tutti i giorni. Tutti i giorni. Da quando? Dal 2 di aprile e arrivo il 24 di ottobre, giorno del mio 83. Oh, bravo! Ultimo! Non ci preghiamo, 63! Non lo sapete che è? Perché io cambio modosa ogni sguardo. Viva la sincerità! Che applausi! È vero, le donne sono... Allora...